Sono oltre cent'anni che ci prendiamo cura delle persone cieche e con disabilità. Eppure ogni volta ci emozioniamo come fosse la prima. Quest'anno è stato per le lacrime di una bambina che finalmente è riuscita a vedere il mondo. Per un villaggio in festa attorno al nuovo pozzo. È stato per il primo giorno di scuola di un bambino con disabilità. Per la posa della prima pietra di una nuova sala operatoria. Per il villaggio più lontano mai raggiunto con le cliniche mobili. Ancora non sappiamo che volto avranno le emozioni del prossimo anno, ma tu rimani al nostro fianco. Le scopriremo insieme come fosse la prima volta. Merry Christmas! Happy New Year! It's Oldboy It's Oldboy It's Oldboy It's Oldboy Did you do quello che dice?